Senti Eddie, è da tanto che te lo volevo chiedere, ma come hai superato la tragedia di Connie? Mi ricordo che quella sera i bambini giocavano in giardino, io andai in cucina a controllare la cena senti lo stridere della frenata, hai un colpo, corsi fuori, qualcuno chiamò l'ambulanza, arrivò anche velocemente dalla mia bambina, dopo due giorni la seppellivo e non ricordo più nulla di quel periodo, non ricordo Jane tornare a scuola, non ricordo Carl tornare al lavoro, è tutto finito, in un istante. È dura da superare per una coppia. Eh sì, da quel momento non c'è stato più nulla, non abbiamo più parlato, non siamo stati più intimi, era tutto finito. Io è di quanto mi dispiace. Una mattina ti svegli hai tutto, sei felice, la mattina dopo non è più noi. è dura, è dura da andare avanti, da superare. Ho tanto faticato per poter andare avanti. Mi dispiace. Grazie. 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 Grazie.